Un pericoloso latitante salvadoregno ricercato in tutto il mondo è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri della stazione di Cermenate in un'abitazione di Bregnano. L'uomo 33 anni è uno dei membri del cosiddetto esercito dei bambini, un'organizzazione criminale transnazionale che opera anche negli Stati Uniti e in Europa, tristemente nota per crimini efferati e anche per il reclutamento di ragazzini e addirittura bambini. Il 33enne Luis Alonso Rodriguez Hernandez è accusato di associazione delinquere e affiliazione ai gruppi criminali. L'operazione è scattata nell'ambito dell'iniziativa Interpol mirata a localizzare cittadini salvadoregni appartenenti alle cosiddette gang denominate MS13 e 18esima street gang ovvero appunto l'esercito dei bambini emigrati fuori dagli Stati Uniti. L'organizzazione è accusata di rapine, estorsioni, rapimenti e omicidi. Le forze dell'ordine a livello internazionale stimano che gli affiliati siano almeno 50.000. Ieri sera il Dipartimento della Sicurezza Interna statunitense ha segnalato al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia la presenza in Italia del 33enne salvadoregno. Il riscontro dei dati in possesso dell'Homland Security con quelli della Sala Operativa Internazionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha consentito la scorsa notte ai carabinieri della stazione di Cermenate di individuare il latitante in un'abitazione di Bregnano. Prima dell'alba i militari dell'arma hanno fatto irruzione in un appartamento di via Garibaldi rintracciando e arrestando il ricercato. Ottenuta dalla criminal Polla conferma dell'identità del ricercato sul quale pendeva un mandato di arresto internazionale, il 33enne è stato trasferito in carcere al Bassone in attesa dell'avvio delle procedure di estradizione.